Caro giovane che stai entrando per dare fastidio, volevo solo dirti che nonostante tutto ti voglio bene. Forse non ti interessa, ma ti prego non scappare, cercami, parliamo, ti perdono. Ti voglio solo abbracciare, Dio ti ama pazzamente. Il cartello che abbiamo appena letto si trova all'ingresso della chiesa di Villa San Martino ed è un messaggio preciso rivolto a certi ragazzi che hanno gravitato attorno al quartiere negli ultimi giorni e che sono stati protagonisti di un episodio davvero riprovevole. Sabato Don Lorenzo Volponi, parroco di Villa San Martino, si è trovato davanti una scena che non si sarebbe mai aspettato. Gelli igienizzanti ribaltati e spremuti ovunque sulle panchine, gel al quale è stato anche dato fuoco con fiamme che si stavano sviluppando e che sono state subito sedate dall'intervento dei parrocchiani e anche cassette delle offerte di Velte. Questo è stato l'ennesimo episodio di vandalismo giovanile che in città si sta ripetendo con una frequenza piuttosto inequietante. Nell'occasione specifica i ragazzi sono già stati identificati, è stata fatta segnalazione alle forze dell'ordine e alla famiglia per un episodio che riguarda ragazzi che non hanno nemmeno 14 anni. Un episodio che si ripete e che si accanisce in qualche modo anche sulla sacralità perché ci siamo occupati anche nei mesi scorsi, ad esempio dei vandalismi al cimitero centrale con tanti imbrattamenti di lapidi, corridoi del cimitero San Decenzio. In questo caso sacralità profanata dai vandalismi, dalle fiamme eppure dal furto di qualche offerta. Ma è una lista che si allunga quella delle cosiddette baby gang. Per mesi ne abbiamo parlato degli episodi susseguiti sin piazzaredi dove sono pure arrivati degli arresti. In questo caso si parla di under 14 e dunque non imputabili. Ma la serie si srotola anche a tanti altri episodi sparsi per la città. Vedi le aggressioni al parco Scarpellini, vedi le panchine sradicate in via dei Frassini, vedi soprattutto la vandalizzazione della sede del quartiere di Vismara, i cui tre responsabili figurano tra quelle degli otto minorenni, denunciati per simili reati alla polizia locale fra il 2020 e il 2022. Un report di microcriminalità giovanile esposto tra l'altro nell'ultimo consiglio comunale. E dunque situazioni che si ripetono e che non hanno distinzione di quartiere. Villa San Martino, Torraccia, Tombaccia, Vismara, Piazza Redi. Ne abbiamo parlato tanto di questi episodi che riguardano ragazzini, che riguardano spesso poco più che bambini. Difficile chiamarle bravate. Si tratta di un problema sociale sempre più meritevole di riflessione.